Un'operatrice socio-sanitaria positiva al Covid-19 in Casentino. Dopo i casi che si sono verificati all'ospedale della Gruccia, in Valdarno, adesso il primo contagio tra i dipendenti dell'ospedale di Bibbiena. La donna attualmente si trova in quarantena presso il proprio domicilio. Martedì scorso l'operatrice era entrata al lavoro senza sintomi influenzali. Al suo ingresso in ospedale, come da procedura, era stata infatti sottoposta alla misurazione della temperatura corporea, ma era tutto regolare. Nel corso della mattinata, invece, aveva iniziato a manifestare qualche sintomo, così era stata invitata ad andare a casa e rimanere in isolamento. Successivamente le è stato fatto il tampone, che ha dato esito positivo. L'azienda sanitaria ha così provveduto ad attivare tutte le procedure del caso per la messa in sicurezza del personale sanitario, dei visitatori e dei pazienti. Sono state infine effettuate 70 interviste, a seguito delle quali il medico competente sta procedendo con i tamponi a chi può essere considerato contatto stretto. Il servizio di igiene pubblica segue anche il protocollo di messa in sicurezza per i contatti personali dell'operatrice.